Buonasera siamo Verdi e ci stiamo accingendo Patti al... si sta facendo massaggiare da Abdullah... Abdullah Ping Pong Cha! Abdullah Ping Pong Cha si appresta... da notare vediamo il piede... la crema... vediamo che fa le cose in maniera attenta... di quale dimestichezza... qui dietro qua c'è il cuscino... qui dietro l'assistente al massaggio... dove l'hai visto sto cuscino... mannacce tua... c'è ancora un uomo... c'è ancora un uomo... ci dica le impressioni... ci dica... devo dire che è molto bravo... c'ha le mani d'oro... gold hand... gold hand... immagini un gold hand... con i tool come sottofondo... e quindi... troviamo... che cosa è? che cosa è? bravo... no... l'asformata... c'è un uomo... si mette di pene... ok... senti... è la crema... eh... non è la crema... Concentrazione.